Buongiorno, 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 ci siamo già salutate con alcune amiche del canale, e che bello, che bello che confermate questa vostra presenza perché io magari terò compagnia tante di voi, ma anche a voi, anche a voi, anche voi con i vostri scritti, le vostre risposte, le vostre confidenze, grazie. È una cosa bella, è umana, è la parte bella dell'umanità, condividiamocela. Adesso vi faccio vedere una cosa, a parte il raggio qua davanti, ma guardate là, da Trieste con furore, è arrivato il sole perché là ho saputo che soffia una bora, bora che sveglia, sveglia e deve diffondersi questa bora che sveglia e ha spezzato via le nuvole che è da giorni, da domenica diciamo la verità, da domenica rompevano un po' le scatole, perché tutta quell'umidità, a me non fa bene, a me non fa bene, però mi piaceva, anzi vi devo ancora condividere un cielo, poi lo farò, è un mini video che mi sa che non ho condiviso, un saluto, un shortino. Ora mi pappo questa quasi frittata, vedete com'è sottile, di farina di castagne e che mi sono preparata ieri sera, questa notte, mentre la stufa ancora andava e così colaziono e poi registro perché non mi regge la memoria, quindi ieri avevo ancora troppe cose in ballo, si stava caricando l'ultimo vocale, la presentazione della presentazione, l'anteprima dell'anteprima, l'introduzione dell'introduzione, che riguarda insomma questo argomento. Quali filati Lollo Crea per sciaglia crochet? E qui ieri ho fatto la lista, quindi nel vocale, due vocali fa mi pare, no? Ho fatto la lista di quanto ho preparato sul tavolo, che non è quanto ho in casa, al di più, anche alcune scatole non accedo. Però ve li nomino, anzi vi ricordo ancora una volta il gas, perché il bianco si è finito ed è rimasto il nero, che tra l'altro è quello che io ho campionato e che mi ha innamorata da subito, sapete che io non amo il nero, non amo indossare il nero, soprattutto gli scialli, però in effetti ci possono essere delle occasioni dove loro, se fatte in un certo modo, possono essere utili e belli. Io il nero lo immagino di sera, mi piace solo in certe situazioni e mai total black, ecco, che sia un tocco, che sia un qualcosa. Una volta indossavo un tubino nero, ma che bello! Eh, quel vestitino a livello dovrei raccontare, perché era una meraviglia, mi sarei messa sempre solo quello. No, poi ne ho avuto un altro, completamente diverso, di vestitino nero, ma sempre in estate. In inverno poco, a parte gli anni dell'adolescenza, quindi i 16, 17, 18, ero un po' dark, no? No dark come indirizzo, non posso neanche dire filosofico, insomma, movimento gioventunesco, ma dark perché nero, nero, nero bianco, bianco nero, poi, boh, sono arrivati i colori di nuovo sparati. E beh, negli anni Ottanta io sono stata molto arancione, molto verde, molto gialla, ecco. Anche un po' rosa fucsia, ah sì, rosa fucsia, sì. E poi i jeans, i jeans, i jeans, ma penso che mi ricordo come mi vestivo negli anni Ottanta, boh. Ah no, avevo delle cose buffe anche, sì. E poi il mio tricò, assolutamente sì. Avevo i miei golfettoni, i primi golfettoni, perché mi sembrava così strano lavorare con i fari grossi, ok? Venivo dai tre, due e mezzo, tre, tre, cin, tre, sette. E vai con la mia collega di maglia, quella come ho già raccontato vocali fa, ma ci sono anche i nuovi che magari ancora non vanno a pescare indietro. Ecco, con la mia collega di lavoro nel salone dove entrambe facevamo a botta. Davvero, a volte nel retro vi sticciavamo come se non si sa, ma di quelle litigate. Ma volavano cose, ci siamo pure picchiate, tipo, ti, 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 devi fare, perché ero un po' tremenda, ero la più grande, la responsabile, quella un po', insomma, faceva i versi alla gente, ma era un po' indisponente e capricciosa, però eravamo amiche, ci siamo divertite come delle matte, le abbiamo fatte di tutti i colori. E quindi ci si ritrovava, pensate un po', che già noi cominciavamo la mattinata lavorativa alle otto e trenta, quindi alle otto e trenta la Claire, la storia cinesca doveva sollevarsi al pubblico, noi ci si trovavamo a volte alle sette e mezza, otto meno venti, otto meno un quarto, per lavorare un po' a maglia. E poi a volte ci fermavamo a mangiare in salone se il tempo era brutto, poi andavamo al mare lungo la passeggiata a Morin e andavamo col nostro lavoro a maglia, perché facevamo cose, grazie a lei ho iniziato ad usare i feri del 10, sono passata dal 3, senza stazioni intermedie, al 10, il 12, il 15, dei giubbottoni facevamo negli anni 80, a parte poi aver realizzato un bellissimo golf, dal mio primo marito, e mi ricordo acquistai un filato bellissimo di Missoni, un po' mollo, devo dire la verità, non aveva una grande tenuta, ma era un tweed grosso che lavorai con i feri del 6, che mi sembravano già dei pali, a me, era un marrone caldo, non scuro, un bello tweet ciccioso, un po' peloso, ricevetti anche l'etichetta, sapete che c'erano queste cose qua, non mi ricordo, c'era Missoni con qualcos'altro, sparai un botto di soldi rispetto alla mia busta paga, lo comprai in via del prione al negozio che c'era, ci fu per un periodo, la pecora nera, negozio per il quale mia madre collaborò a lungo, insieme a mia zia, realizzando golf, molto colorati, a pezze, a pezze, poveraccia, poi ricamati sopra, allora davano un campione doveva, senza spiegazioni, le taglie se le doveva creare mia madre, molto a macchina e molto a mano, e che fatica, poveracce, per tre soldi che poi venivano venduti cinque volte tanto, quei golf, perché erano fatti a mano, capito? Eh sì, queste cose, e venivano anche pagati, eh, così tanto, e poi mia madre collaborò con un altro negozio della città, grazie all'amica Magliaia che ci vestì, prima di insegnare a mia madre a lavorare in macchina, una brother, non so se ne cambiò due, però dicono quel canello, vum, 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 insomma eravamo sette figli, all'epoca non c'erano ancora tante rumentine in giro, da battaglia, come si suol dire, c'era un unico negozio nella mia città che vendeva quelle cose che adesso troviamo in ogni dove, quindi cose a basso costo, di pessima qualità, e con le fibre naturali che le vedete da lontano, però non sempre, perché in questo fine settimana ho regalato a una delle ragazze di casa, e me le adotto tutte le ragazze qua, e quindi una delle mie ragazze, e ho regalato un mio golf che acquistai, è vero, al mercatino di Grotta Ferrata, dove trovavo in un banco cose nuove e cose usate, meravigliose, veramente belle, bisogna avere la pazienza di lottare per accaparrarsi il pezzo che già da lontano ci attira, e poi controllare con pazienza tutto, quindi le parti di usura, sotto le ascelle, dai gomiti, i bordi, le cuciture, eventuali tarme, insomma bisogna guardarli i capi, e ho fatto degli affaroni, quel golf fu un affarone perché era in tonso, nuovo, nuovissimo, ma è usato e si vede se è stato usato, al di là dei possibili odori o macchie, perché le macchie si possono anche purtroppo presentare durante gli spostamenti, era un maglioncino nuovo, bellissimo, color verde erba e fiori, perché era un verde chiaro, con presenze gialle, era proprio bello, in bello tosto, con un polsino molto lungo, da 20 centimetri circa, da rigirare, e mi stava anche bene, solo che aveva il collo alto di quelli molto aderenti, belli, bellissimi, perché o mi piacciono, o molto abbondanti, che si rivoltano un po' sciallosi, ecco, che stanno però anche su, oppure mi piacevano aderenti e tosti, quello lo era io da quando sono in menopausa, non ho problemi di tiroide, ma non mi sopporto le cose strette al collo, non riesco più a portarli, quindi se ho freddo, indosso degli scaldacollo che metto e tolgo, allora bisogna, oppure le mie amate sciarpe, le mie scialline che giro e rigiro, insomma, e dicevo, insomma, questo golf è trovato in un mercatino di H&M, lo dico, non mi pagano, lo dico, perché sapete di che cosa si tratta, di che cosa si può trovare in questa catena di negozi, ed era un 100% l'H&M che al tatto, e l'ho lavato più volte, l'ho lavato subito e me l'ho arrivata a casa, io poi li metto in separata sede, gli chiacchiero, dico, stai buono qua, li infilo nel sacchetto, metto subito un po' di antitarme e dopo lavo, non li sto disperdere nell'ambiente, e poi metto un antitarme, le cartine, e lui si è comportato sempre ottimamente, un golf molto caldo, bello, bello, bello al tatto, bello, ed era un golf di quella catena di negozi lì, quindi bisogna guardare sempre, e le cose belle capitano, e adesso sono arrivata a parlare di quel golf, ah non mi ricordo ciò perché, vabbè, comunque fatto sta, che adesso faccio la colazione, ho già bevuto la parte più calda del mio tè, e vi metto, questa chiacchiera è un po' più lunga di uno short, perché negli short non riesco ad abbinare, nell'info box, sapete qual è l'info box? Sotto al quadratino, rettangolino, al videino che state guardando, sulla destra c'è una specie di freccettina, schiacciate lì, si apre un'altra fila, finestra, vi scende giù un mondo, a volte non scrivo niente, a volte scrivo molto, a volte aggiungo link, a volte no, a volte ricordo che mi si può trovare su Instagram, narrazioni trattino basso tessili, poi potete trovare anche Camilla con le sue cosine, i suoi raccontini, sempre su Instagram, si chiama la pagina, ma poi lo dico, le pezze di minuppi come Palermo e Z come zoom, 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 sarà capitato anche a voi, da avere un gomitolo in tasca, eh? Eh sì, eh sì, negli anni 80 si girava molto con la maglia, questi nel caffè che sembrano delle grandi novità, all'epoca ci si trovava nei negozi di maglia, le signore, quelle che sappiavano condurre il negozio, offrivano il caffè, si realizzavano dei corsi, il più organizzato nella mia città si trovava nei pressi di Piazza Europa, credo proprio affacciato in Piazza Europa, adesso non mi ricordo bene, perché non era un mio punto di riferimento, perché era caro per le nostre tasche, eh hai comprato mi sonni, lo so, ma una volta, eh? Io mi sono svenata per dei filati, ehm, per le quantità, diciamo, una fiera campionaria, la fiera di Natale della mia città, eh, che non mi ricordo come si chiamava quella di Natale, tanti anni fa, dove tanto sono anche stata a dare una mano, mh, in tempi non sospetti, ma ecco da ragazza acquistai un saccone condominiale, sapete i sacconi condominiali, e lo riempì dell'arco di una settimana, di dieci giorni della fiera, acquistai a rate, delle matasse meravigliose di lana, di cento per cento lana della Val di Vara, tinta meravigliosamente bene in un laboratorio, una filanda che si trovava a Varese Ligure, Varese Ligure in Val di Vara, ed era una lana bella, vi sarebbe piaciuta tantissimo a voi amanti delle Shetland, delle lane secche, ma non troppo, era una lana riscetta, non era ricetta come la Shetland, ma una mano meravigliosa, e io tricottavo con i miei 3, 3,5 al massimo, con quella lana lì, mi sarebbe stata perfetta per dei calzini col 2,75 ad esempio, eh, una lana veramente bella che non mi è stata più resa, ma sapete come sono i divorzi, spostami, quelle robe lì, no, che sparisce, arriva, eh, vabbè, va a senso, cose che succedono, a me mi sono successe tante volte, mi sono sposata due volte, lasciamo per, allora, c'è il sole, c'è il sole, grazie a Trieste, adesso vi allego un link, volevo dire, scusate, mi sono persa, un link di un canale che ho scoperto questa notte, mi sono andata tardissimo, perché alle 1.30 a 2 eravamo in giro con menù, eh, non mi ricordo più l'1.30, forse anche le 2, ma poi neanche ci prepariamo che lavo la minù, sapete che il bidet ha le zampine, quelle cose lì, il musetto a minù tutte le sere, e prima che mi preparo io, che poi ascolto, poi leggo, poi faccio, poi brigo, non lo so che ora ha spento tutto, ho scoperto questo canale, gestito da una signora caruccissima, e allora, non vi dico di che cosa chiacchiera questa signora, è una sorpresa, ma a che fare con la mia colazione? Il tema, diciamo, eh, poi io devo ancora, ma non vi svelo oltre, perché ve lo segnalo veramente con tanto entusiasmo, diciamocelo, va? Sì, sì, sono quegli incontri, ma va che roba carina! Adesso chissà cosa vi aspettate, però a me è piaciuta questa cosa qua e la voglio condividere con voi, e magari anche ascoltare le vostre impressioni, non lo so, un insieme di cose, ecco, e poi ce ne sono di persone molto carine che voglio rinominare, che seguo, a volte sono come tante di voi, insomma, talmente presa, mi stupisce che tante siano così belle, affezionate, che faccio quei pipponi, a volte lunghi, che non è che nell'arco della giornata tutti riescano ad avere tempo per ascoltare tanti video, e quindi vi ringrazio di questo, ma ne seguo, ne seguo con veramente interesse, e poi ve li voglio rielencare e dire perché li seguo, perché è una cosa, è bello a volte, ma perché ti piace quella cosa lì? Io vedo persone che non mi sanno rispondere, ma come non mi sanno dire, ed è così, a volte le persone non sanno dire, non sanno spiegare, ti piace quella cosa lì, ma ti piacerebbe anche cosa, ma non so, oppure, ma com'è che ti piace questa cosa? Boh, il buio, il buio totale, anche riguardo ai filati, perché ti piace quel filato? E uno non si sa esprimere, e se non ti sa esprimere poi diventa difficile, più lento il colpo d'occhio, che va allenato, visto che qui acquistiamo più online che personalmente, soprattutto i filati, no? Ecco, allora bisogna imparare a riconnetterci con noi stessi, dare un nome alle emozioni, e che cosa le scatena queste emozioni, positive e negative, e più approfondiamo questo nostro rapporto con noi stessi, e le nostre percezioni, sensazioni ed emozioni, e meglio sarà in tutti i sensi, soprattutto, ecco, diciamo, sì, per l'acquisto a distanza, insomma, e anche per seguire con un interesse diverso anche le chiacchiere dei nostri colleghi, delle nostre amiche di maglia, amici di maglia, ecco, guardare come maneggiano le cose, e come si muovono le cose che hanno realizzato, già ci fa capire qualcosa, cose, cosa, qualcosa, di quella consistenza, di quel volume, e poniamoci perché mi piace, cos'è che mi piace, come lo potrei impiegare, ecco, così poi ripassiamo al vocale dedicato, insomma, all'argomento, alla conclusione, forse non sarà mai concluso questo argomento, quali filatilo lo crea posso scegliere per realizzare i scialli crochet? Adesso ve lo registro, ciao!